Un saluto dal Tg della mobilità, l'Eur è partita la seconda fase degli allestimenti del circuito per il campionato di Formula E in programma per il 15 e 16 luglio. In particolare sino al 19 luglio resterà chiuso il capolinea di Piazzale dell'Agricoltura, le linee 73, 170, 708, 724, 762, 779 e 779F, N070, M02, M20, L05 e L50 spostano la fermata di capolinea a Piazzale Sturzo. Nello stesso periodo la 788 fa invece capolinea a Viale di Vial Fiorita, all'altezza della stazione metro Magliana. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.